Allora l'impasto per le frittelle che poi qua da noi in dialetto sarebbero le fortaie è composto da uova farina latte un pizzico di sale un po di birra ci mettiamo va beh il burro tutte quelle cose che vanno messe nei dolci poi il lievito vi faccio vedere di nuovo a farla si riempie l'imbuto sempre facendo attenzione perché l'olio scotta girando l'imbuto si cerca di tenerla il più compatta possibile si aspetta che sia bella cotta e si toglie lasciamo gocciolare la sorella di mia suocera ha lasciato la ricetta a me e mia cognata ce la tram andiamo adesso vediamo se i nostri figli avranno voglia di continuare ma mi sa che